A grande richiesta ragazzi, sono finalmente ritornati Il Lucky Block dei Pokémon In compagnia di Mark Ciao Kenroll Quest'oggi ragazzi ci sfideremo A suon di Pokémon Semplicemente aprendo questi Lucky Block Io spero di riuscire a fare un'intera squadra Solo di leggendari, tra l'altro Guarda qua chi ho Dimmi C'è un Charmander che sta un po' male C'ha la febbre, vedi Ma dannezione, come hai fatto vero? È tutto pallido, non lo so come ho fatto Dammi le Master Ball e iniziamo Senza perdere troppo tempo A loro piace tantissimo questa serie Quindi adesso ti distruggo Sei pronto? Vediamo Ma non ci credo Vieni qua Vieni qua Potrei rubartene in effetti Ma cosa rubi? Guarda ora c'è un Palkia Palkia La seconda non va sempre a posto Guarda 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 Infatti lo vedo che non sto trovando nulla di buono Deoxys Bam 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 E questo chi è? E questo chi è? Io li prendo tutti perché alcuni non li conosco Tu prendi prendi Uh Cresselia Bello Cresselia Cresselia Cos'è quello? Sì Questo qua è un Mienfoss Mi chiamavi tu? Eh un po' sì Un po' mi ha spaventato in effetti Sì 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 però devo trovare dei Pokémon di livello più alto Sto trovando solo Robo al 30 Oh Ma guarda te Rishiram Rishiram Dai dov'è il mio bel Charizard Il mio amato Cioè sei sempre fortunato nei Lucky Block Come è possibile Kendall? Beh perché sono Lucky Block Tu invece c'hai gli Unlucky Block Unlucky Block Ah interessante Non lo prendi quel Geridos? Non ti interessa? Eh livello basso Io appunto avere tutti i leggendari Scusa eh Tiratela di meno Eh sai io sono il più forte di tutti quanti Sì quindi Oh Entei Come Entei Vabbè Entei non è molto forte in realtà Nella pixel mondo Kendall lo dici solo perché tu non l'hai ancora trovato E fu così che mi distruggi con Entei adesso Solo con Entei Arriviamo alla fine Faccio una squadra di solo Entei Solo Entei mi fa sacri Cobalion E chi è questo? Che è dove? Quello è un'ultra creatura Kendall Oh ok Era al 70 quindi sarà buono no? 70 Sì 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 70 Cavolo Io trattare lo Dactyl Ma ce ne sono ancora di Lucky Block da aprire Allora ce ne sono molti Kendall L'ho trovato adesso un 0 ora Jolteon Al 35 però Beh Hai visto? Prima hai trovato anche un Flareon Ma non l'hai catturato No no l'ho preso l'ho preso Ah bravo 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 Gengar vieni qua Oh chi è? Andrus No non lo prendo neanche No Non è un leggendario quello che hai trovato Kendall Eh lo so Deoxys di nuovo Volcaruna Non male non male E c'è sempre un livello molto alto Volcaruna Kendall Chi è questo? No non mi interessa Non si preoccupare Io adesso lo troverò Uh qui lava Io spero adesso di trovare qualche leggendario serio Per esempio Charizard non lo trovi Quindi Ma perché non lo trovo mai? Perché non sei degno di trovarlo all'interno dei Pokéle Ma stai scherzando? Il mio Pokémon preferito non lo devo trovare? Eh beh anche il mio Un bel Mewtwo magari Serperior Deoxys anche io Eh io ne ho tre se vuoi te ne regalo un paio No 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 grazie Gentile per l'offerta Ma la mia squadra leggendari piano piano sta prendendo un'ottima forma Sai che quando ero piccolo Hitmonlee era uno dei miei preferiti tra i Pokémon Bello Era molto carino Perché tu guardavi il cartone animato Eh certo che guardavo il cartone animato Allora è per quello E avevo anche le carte Oh vieni qua piccolo Articuno Chi è? Dove pensi di volare? Uh vedete che lo rubo Ah dai mazio No 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 E io quindi c'ho Typhlosion Articuno Typhlosion non c'entra nulla C'ho Articuno Oh mio Dio una balena C'ho Articuno C'ho Moltres Sì? Adesso mi manca soltanto Oh Gaudon Sì Uno tra i miei preferiti Tra i leggendari Ma che fortunato sei Chi è andata? Eccolo Vieni subito qua Non ci credo Vieni 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 Zapdash Zapdash Blaziken Uh bello Blaziken Sì però lascialo giù probabilmente Io lo prenderei Fa niente No 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 È un livello bassissimo Mew 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 Beh tu trovi Mew Io trovo Mew Guarda che ho trovato Non mi ricordo il nome Lui è un'altra ultra creatura Kendal Ti sta andando sempre un sacco bene Tappi fini Vieni 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 Oh mio Dio Lugia Lugia Stai scherzando Lugia è uno tra i più belli di tutti Umbron è più bello che il mondo Pokémon Non credo proprio Non credo proprio Ok ok va bene Ho trovato un coniglio Chimchar al 5 Salamence vieni qua Vieni qua Dai 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 Darkrai No Io 0 Neanche 1 Ok 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 Bello un Bulbasaur Un Venusaur al 37 Tu hai trovato Upa Io ho trovato Upa Tu hai trovato Venusaur Io ho trovato un bellissimo Nidoran al 3 Tanto anche se dovessi trovare un Charizard Nel c'è al 30 Non ha senso Ah beh Comunque lo metterei in squadra Upa Al 41 un Blaziken Dragonite Come Dragonite No Quelli a 70 sono tutti leggendari no? Sì Ok Fantastico Wow 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 Vieni subito qua Dove pensi di andare? Oh ma tu hai tutti i leggendari che volano eh Comunque non vale Sì ho capito ma sono tutti piccolini E lui chi è? Ho finito i Lucky Blo Lui non l'ho mai visto È Volcarona lui Guarda No ma è in combattimento Ok No puoi prenderlo Mi ha battuto Mitico L'hai finiti tu? Io li ho finiti Kendall Shai Min Questo vero leggendario Ma due Ma anche Giraci Sì ma ne ho tantissimi io di questi piccolini Altaria No cioè non è possibile Stilix Non è possibile Basta Dai dammi qualcosa di assurdo Oh mio dio Vediamo cosa trovo nell'ultimo Bam Niente Vabbè Niente Meglio di niente Meglio di niente vero Adesso diamo un'occhiata alla nostra squadra e formiamola Io direi di mettere subito un Groundon Allora mi hai insegnato Mark che posso guardare le loro mosse Assolutamente Il mio Groundon è un po' Scarsino È ok Non fa schifissimo Questo Deoxys è piuttosto potente Sì 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 Quindi anche io metto Deoxys Ma io ne ho tanti di Deoxys però Questo fa schifo Quindi non lo metto Ci sono diverse forme di Deoxys Ricordatelo eh Ah sì? Non lo sapevo No questo qua lo togliamo Chi è? È G-Glass Non mi serve a nulla Blaziken al 41 Ferromosa Un bel Ferromosa Vediamo che mosse ha Ferromosa mio è bruttissimo Ti avviso Sì sì Anche il mio fa proprio schifo Immagino guarda Flareon Mi spiace mai solo al 41 Reshiram Vediamo che mosse ha Reshiram Speravo meglio Però non male dai Non male Blaze Faleon Mai visto in tutta la mia vita Oh mio Dio Non è vero Cosa? Cosa? C'è una mossa piuttosto potente Davvero? Eh sì Vediamo Giraci Anche Giraci Oh Giraci mica scherza Oh io c'ho una squadra di soli Leggendari E ultracranature Complimenti Kendall Sei sempre solito fortunato Complimenti Rasi chi? È un pochino Devo rosicare Vediamo che altro Latios Vediamo se è forte No Un surf schifissimo Vulcanion Diamo un occhio Uh Ah però Ah però Vulcanion Non fa proprio schifissimo Io lo metterei al posto di Grodon Ok Sono pronto Curiamo i Pokémon Eh tu sei pronto Io non ancora Come non sei ancora pronto? No perché i miei Pokémon Fanno tutti schifo Dannazione Non ci credo Mark Secondo me Tu non sei pronto A questa sfida Non lo so Sai Kendall Andiamo Io lo metto pronto Vai Ok Lancio il mio Thundroose Quando vuoi Kendall Io vado con il mio Volcanion Ok Vediamo Vediamo che attacco Posso utilizzare Non è così forte Questo Reshiram Perché l'ho tenuto? Attacco di tipo Drago Dovrebbe farti del male Vediamo È tutto molto male Guarda Mica male Un altro Il mio trash però Ti toglie metà vita È il tuo Thundroose È andato K-O Ciao Siamo 1-0 Volcanion È un Pokémon Molto interessante Volcanion Perché? No poi te lo spiego Ti faccio questa mossa Non puoi cambiare Pokémon Vediamo come se la cava Con Girachi Ok Potrei essere più veloce Ti prego non vi uccidere No No Non ci credo Era forte tra l'altro Era forte il tuo Girachi Kendall Mi spiace Ok Deoxys allora Deoxys Andiamo in campo Deoxys Con un bel attacco di tipo elettrico Dai Vediamo se posso bruciartelo No No Non è vero Ma quanto è forte il tuo Volcanion Quanto è forte il mio Volcanion Ferromosa Dai Ferromosa Sicuramente è più veloce no? Vediamo Sì E ti ha fatto piuttosto male Mi hai fatto un sacco male Ti ho fatto male eh Mi hai fatto un sacco male Ti ho fatto la bua Boom Addio Volcanion Un Pokémon leggendario fortissimo Siamo due a due praticamente no? Ok Va bene Te lo sfido così Mi piace Ho ancora High Jump Kick Quindi Ferromosa contro Ferromosa Ti prego Sì 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 Siamo più veloce io Siamo più veloce io Siamo più veloce io però Ok Dai E io lo cambio allora No No Vediamo se mi fai del male Cosa è successo? Cosa? Com'è successo? Che io ho preso danno io Hai preso danno perché mi hai attaccato? Che tattica ragazzi Non l'ho fatto apposta a dire la verità È stata fortuna Dark Ray eh Vediamo come se la cava con un attacco di tipo fuoco Guarda ragazzi faccio Dovrei Dovrebbe addormentarsi Oh Ok Ottimo Ma che è successo? Mi hai costretto a cambiarlo Allora Volcanion C'ho overheat che fa 130 di danno Sempre se non si addormenta il tuo Volcanion No Bam Ok entei Eh infatti Io potrei utilizzare un attacco di tipo acqua Oh no L'idropompa di Volcanion No Non farlo L'hai schivato Bravo 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 Meno male All'ultimo Dai ci devo riuscire Mamma mia No Cresselia Ce l'ho fatta Ok va bene Overheat Dovrebbe farti un bel po' di male No Non mi hai fatto niente Io ti faccio confusione Ti faccio più tanto Faccia da serpente Vediamo con Rashiram allora No 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 Kendall non mi hai fatto niente Non mi hai fatto niente Non vale Proviamo Dragon Pulse Ti prego Rashiram fa qualcosa No è inutile Non funzionano le tue mosse contro The Mark E invece si Quanti altri Pokémon ti restano per curiosità? Mi rimane Cresselia e Dentei Mi rimangono ad essere onesto con te Cresselia e Dentei Ok quindi hai solo Dentei che ha poca vita Dai Cresselia Dai Cresselia Dai Cresselia Dai Cresselia Quanto sei forte Spero che Ferromosa sia più veloce Ma tu non hai utilizzato il tuo graudo Non l'ho utilizzato? No perché l'ho cambiato con Volcanion Ok Ferromosa Dovrei farcela ragazzi Ferromosa In queste sfide Sei stato più fortunato di me Beh voglio dire Avevo una squadra di leggendari fuori di testa Vedremo vedremo la prossima volta Potremmo riprovarci Magari ragazzi la prossima volta Potremmo provarci con i Pokémon Shiny Pokémon Shiny Mark è stato un piacere sfidarti caro allenatore Ragazzi lasciate un mi piace E ciao Ciao